La composizione della prima serie, otto scottie, tutte occupate, in prima il partito dell'Axi Capitolio Palatino, in seconda c'è Luca Bantino Cariri, in terza Davide Manetti, aeronautica militare, in quarta Valerio Rosichini, fiave gialle, in quinta Enrico Notchini, Cariri, in sesta per la predica Prato Giacomo Angeli, in settima Gionata Capuano Cariri, in ottava Ciro Riccati, Enterprise Sport Interi. Per questi nominati, per questi avveni capite l'importanza di questa prima serie. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie